capitolo 15 mario pietro elena e lidia è l'inizio del mese di agosto e sono estremamente contento di passarlo sul mare adriatico che non conosco affatto è la mia prima volta qui e mi piace la novità penso due secondi ai miei ex colleghi in ufficio lontani dalla spiaggia in francia che sfiga non li invidio per niente arrivo a riccione verso le 4 del pomeriggio il tempo è perfetto c'è un profumo di vacanze nell'aria ci sono dei turisti dappertutto la città è costruita lungo la spiaggia che non si vede quasi per niente e il mare ancora meno i bagni sono disposti lungo la strada direttamente all'inizio della spiaggia attaccati gli uni agli altri e ostruiscono completamente la vista alcuni bagni sono impressionanti sembrano dei castelli quasi tutti hanno la piscina all'ingresso e mi chiedo perché mettere delle piscine quando puoi andare a fare il bagno giusto a 50 metri da qui boh ci sono anche dei bocciodromi dei campi di beach volley dei giochi per i bambini di tutti i tipi a volte ci sono delle spiagge libere ossia gratuite ma molto piccole piuttosto vicino alle telefoni della città ma lì si vede il mare però dietro ai bagni si trovano gli alberghi appartamenti discoteche le zone commerciali pedonali finisco per trovare un posto per la macchina e vado direttamente da paolo al bagno stella di mare lo trovo facilmente dopo dieci minuti a piedi entro e paolo mi viene incontro ciao paolo come stai ciao rodri io sto bene e tu benvenuto a riccione reale le vacanze e del divertimento per i piccoli e grandi poi aggiunge sottovoce spero che non ti sei trovato una ragazza reggio perché qui e the place to be per i single diventerai il re dei vaialini e lo screcchioramento di a terasso e o e o e o e o e o e o avrai dei crampi al cazzo tal di me spero che hai preso una scatola di cento preservativi minimo se no e comprartene appena potrai poi continua parlando normalmente ma prima di divertirsi bisogna lavorare vieni che ti presento il capo si chiama mario paolo sembra felice non l'ho mai visto così entusiasta ci deve essere una donna dietro a tutto questo ci scommetterei qualsiasi cosa entriamo alla reception che fa anche bar ristorante mario viene verso di noi con un gran sorriso che illumina il suo viso deve avere la cinquantina una faccia simpatica e serena ed è un po cicciotto il che lo rende più orsacchiotto e più carismatico ciao sono mario piacere ciao rodrigo piacere paolo mi ha parlato di te per sostituire un animatore che ci ha combinato delle belle cazzate spero che ti piaccia l'animazione perché qui è dalle 9 del mattino fino alle 10 e mezza di sera a volte l'importante e l'entusiasmo bisogna aver voglia e tutto andrà bene vieni con me che ti mostro il tuo contratto lo seguo nel suo ufficio ben arredato mi mostro il contratto e il miracolo non si produce lo stipendio è bassissimo ma non me ne frega niente non sono venuto qui per diventare ricco di denaro ma di incontri di momenti di vita indimenticabili mi spiega che mi dovrò occupare degli eventi sportivi benissimo in sostanza devo organizzare dei tornei di beach volley ping pong bocce ed ogni mia idea sarà la benvenuta naturalmente dovrò essere a disposizione per fare le pulizie servire al bar mettere tutto a posto la sera chiudere gli ombrelloni eccetera eccetera ho l'impressione che le giornate saranno pesanti ma passeranno molto più velocemente di otto ore in ufficio non ho nessun dubbio poi aggiunge che comincio oggi mi spiega ridendo che una giornata di riposo alla settimana per legge meno male in ogni caso sembra molto simpatico come personaggio sorride ride mi mette a mio agio non sembra per niente stressato o agitato sembra quasi che sia lui in vacanza per l'alloggio mi spiega che gli animatori vivono tutti insieme in un grande appartamento dietro alla spiaggia e c'è anche un parcheggio privato per le macchine perfetto non avevo previsto niente per dormire ho fatto bene a non prenotare niente abbiamo finito posso andare ci vediamo dopo con paolo andiamo a recuperare la mia macchina dopo averla messa nel parcheggio dell'appartamento vado a svuotare la valigia mi cambio velocemente indosso la maglietta con il logo del bagno che mario mi ha dato i pantaloncini stil bay watch le ciabatte ed eccomi partito per iniziare il lavoro aiuto gli altri e faccio conoscenza c'è lidia la bionda che la specialista della zumba e dell'acqua gym pietro il sardo e al bar e al ristorante paolo si occupa dei bambini con elena la veronese castana le due ragazze sono molto carine di una gentilezza di una dolcezza femminile che mi sembra essere la caratteristica principale dell'italiana e ovviamente hanno anche questa femminilità che adoro paolo mi fa segno mentre sto ammirando le chiappe di elena veramente un culo che parla espressione che ho imparato dagli italiani va bene ho capito e lei la donna che lo rende così gioioso forse lidia che non ha niente da invidiare a elena a livello dei glutei ho già verificato con un colpo d'occhio veloce riflesso maschile